Una partita attesa fino all'ultimo e c'era da aspettarselo. A maggior ragione la gioia brasiliana è esplosa alla fine a far da contraltare il silenzio dei tifosi colombiani delusi. A Fortaleza e nel resto del paese la sfida con la Colombia, quasi sempre battuta in passato ma particolarmente forte quest'anno, è stata seguita con passione. Un po' di paura c'era, dice un tifoso. All'inizio eravamo un po' nervosi a causa della brutta partita vista contro il Cile, ma poi ci siamo tranquillizzati. Siamo in fase adesso. In un locale di San Paolo c'era anche una coppia mista, colombiana lei, brasiliano lui, hanno guardato la partita insieme a tanti altri tifosi dalle due parti. Abbiamo sempre visto le partite qui, finora siamo tornati a casa contenti, ma oggi uno di noi torna a casa più contento dell'altro. E la regola del matrimonio, dicono, uniti nella buona e nella cattiva sorte, anche quella calcistica evidentemente.